La vita va male? La filosofia e la religione non ti danno più conforto? Ehi tu, 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 sto parlando proprio con tu, te. Secondo te cosa serve per uscire da ogni situazione a testa alta? Che cosa serve a un qualunque organismo che non si chiama Bear Grylls per sopravvivere a qualsiasi angheria che la vita gli impone? Specializzarsi, direte voi, la selezione naturale attua una cernita su tutti gli organismi che abitano il pianeta lasciando in vita solo quelli meglio adattati all'ambiente in cui vivono. Beh, sebbene questa sembrasse la risposta migliore è dannatamente, incredibilmente, incommensurabilmente errata. La risposta giusta è diventa tardigrado. Vuoi poter dire di essere unico al mondo con buona approssimazione? Tra gli appena 900 scoperti ad oggi diventa tardigrado. Vuoi ottenere 8 arti non segmentati ma molto cicciottosi muniti di unghia o ventosa finale a scelta? Diventa tardigrado! Vuoi poter scegliere senza nessun problema climatico di risiedere al lago, al mare, in montagna o addirittura in un deserto per la tua villeggiatura estiva? Beh, diventa tardigrado! Vuoi restare sempre in forma mantenendo la linea con un numero sempre costante di cellule nel tuo corpo? Diventa tardigrado! Vuoi poter viaggiare per gli spazi siderali senza bisogno di ossigeno, acqua o cibo con la possibilità di posare il piede per primo su un nuovo pianeta da colonizzare? Diventa tardigrado! Vuoi poter smettere di lamentarti del freddo d'inverno e del caldo in estate potendo sopportare temperature che vanno dallo zero assoluto ai 150 gradi? Diventa tardigrado! Vuoi, anche se non sei una bella né accettabile ragazza, poter soddisfare il tuo desiderio di maternità senza bisogno di un maschio con la partenogenesi? Diventa tardigrado! Ma soprattutto, vuoi non farti più dire Berlusconi, mafia, pizza, pasta quando sei all'estero e ammetti di essere italiano sostituendo questi luoghi comuni con il nome puccioso ma statuario di Water Bear? Niente di più semplice! Diventa tardigrado! Avete capito cosa dovete diventare per vivere in pace con voi stessi e con gli altri nel nostro ma molto probabilmente anche in molti altri pianeti? TORDIRO! Per le prime 215 telefonate oltre allo starter bootagen pack avrete in omaggio il libro Impara a crescere eseguendo l'epdisi Non sperare nel 6 del dado Diventa tardigrado! Il nostro corso gratuito è un po' di più